L'entusiasmo che ho visto e che mi hanno fatto subito sentire sia il presidente Grieco sia il direttore quando mi hanno chiamato, il mister, il preparatore mi hanno subito fatto capire che qua c'era voglia di fare qualcosa di importante. Sicuramente sarà un primo anno, magari ci potranno essere qualche difficoltà ma stiamo allestendo una squadra competitiva e quindi penso che ci potremo togliere le nostre soddisfazioni. Mi lascia un buon ricordo perché alla fine io sono arrivato lì e devo ringraziare il direttore Pasquale, lo giudice, per avermi l'anno scorso dato fiducia e avermi fatto rimettere in gioco. Ringrazio la piazza che comunque nonostante l'anno scorso non sia stato un anno proprio buonissimo dal punto di vista sportivo, non ha mai fatto mancare l'appoggio in tutte le partite fino alla fine, compresa il ritorno dei play-out. Quindi lascerò comunque un buon ricordo perché abbiamo fatto qualcosa di importante, siamo riusciti a mantenere la categoria che era la cosa principale e sicuramente gli auguro di fare bene quest'anno. È stata una scelta soprattutto di cuore perché conoscevo già parte dello staff, il direttore e quindi appena è arrivata la chiamata non ho esitato un attimo anche perché mi hanno fatto sentire importante e ho visto nei loro occhi, negli occhi del presidente, del direttore, quell'ambizione che ho anch'io. Sarà una Serie C come tutti gli altri anni dove ci vuole tanta cattiveria, bisogna voler arrivare sempre per primo sulla palla, quindi la Serie C è un campionato difficile, basta poco per far bene ma è quel poco che fa la differenza.